Uno striscione con la scritta Save HCB, meno 50, è stato attaccato nel tardo pomeriggio di ieri dai tifosi della curva Nenemichi in Piazza della Mostra. L'idea iniziale era quella di srotolarlo in Piazza del Municipio, proprio sotto il Palazzo del Comune, dove ieri sera si teneva il Consiglio Comunale. Questo però non è stato possibile, in quanto in quest'ultima piazza era in corso una manifestazione del Movimento 5 Stelle. Ma a Piazza della Mostra non è stata una scelta a caso. Lo striscione è stato infatti posto nelle immediate vicinanze dell'ingresso dello stabile, dove trova sede la Hager & Partner, il gruppo Bolzanino, qui cliente di spicco, è il magnate austriaco Rene Benko. La dicitura meno 50 è riferita ai giorni che mancano all'inizio della stagione ocheistica e, pertanto, cercare di far capire che di tempo da perdere ormai non ce n'è più. Un chiaro messaggio a Benko, una richiesta di aiuto nel caso fosse disposto ad aiutare una delle più importanti realtà sportive dell'Alto Adige.